Allora, forse le opere che hanno una grandezza, una forza, che rimangono, sono probabilmente proprio le opere che si portano dietro la sofferenza di colui che le ha fatte per aver dovuto scegliere quell'opera e non tutte le altre che aveva nella testa, aveva, diciamo, fra le possibili del suo catalogo d'immaginario, possibili da farsi, penso, appunto, quindi al marmo come occasione di invenzione, di individuazione, sì è vero. Michelangelo diceva che c'era già dentro, però in realtà io penso che proprio la grandezza, ad esempio, la sensatezza, la forza, la poesia dei prigioni, sia proprio nel fatto che questi prigioni sono fatti in maniera che si capisca che sono una possibilità di manifestarsi, che si porta dietro la sofferenza per l'impossibilità e la lata possibilità di affiorare di questa fatica dell'opzione per dare a quel marmo una forma definitiva, questa definitoria e questa non compiutezza in realtà è il senso che hanno tutte le altre forme che avrebbero potuto esistere e che fremono nell'indecisione di quell'opera che non si riesce a fare definitiva e si mantiene sconfinata, sconfinante, aperta in qualche modo, anche se iniziata a quella virtualità del farsi oltre altro, senza confini, senza limitazione vibrante, ecco tutte le grandi opere, tutte le opere che rimangono forse testimoniano questa difficoltà di colui che interviene su uno spazio neutro, che può acquisire un'infinità di forme, quella di dare alla forma che sceglie anche, come dire, il portato medianico che evoca tutti i fantasmi che quell'opera così conformata comunque evoca di altro da sé, non lo so, e anche il cubismo alla fine, no? Non è che questo, cioè sostenere un'immagine che in realtà evoca, e qui quasi è conclamato, ma più forte forse si avverte in altre, anche espressioni che fanno personaggi, penso ai personaggi di El Greco, no? Sempre sul punto di manifestarsi come a dire, con questi sguardi, con questo slanciamento, slungamento, ecco, ci sono io, ma vedete che dolore, ci sono io, ma molti altri avrebbero potuto essere qui al mio posto, ecco la santità, cioè il farsi testimoni, non tanto di se stessi, ma di tutto ciò che essendo presenti noi stessi, eliminiamo ad altri, ad altro il possibile esistere, il dolore che l'esistere testimonia, quale eliminante ciò che non può esistere, allora la forza, la santità è questo farsi, ma al contempo rammemorare tutto ciò che è possibile, tenerlo dentro in un'ospressione, in una tensione, in un lampo di luce, in una relazione fra cromatismi, anche fra emozioni interiori, agire sapendo che quella azione ne, come dire, allontanerà altre, ma l'azione diventa visibile, forte e poetica, se quella si fa coinvolgendo anche la memoria, paradossale il termine memoria, di ciò che potrebbe essere stato ed è quindi ancora latamente facturo, futurus, in quel suo farsi, penso a certi sguardi di santi del greco, che testimoniano il dolore di colui che fa, si fa attraverso quell'immagine, allontanando tutte le altre che dentro di lui stanno, si arrovellano, e allora quello sguardo, anche a chi ci passa davanti, testimonia un aprirsi alla vitalità delle altre immagini, che in quella che le blocca dietro però premono e si affastellano, non so se riesco a spiegarmi, non so, così io pure credo questa capacità, la testimonio, forse, non so, con i video, come se ogni video si portasse dietro, ogni video che ha una registrazione chiusa, la possibilità di altri, poi c'è anche la fortunata occasione, che il testo registrante sia molto più lato, ampio, di quanto non lo sia un blocco di marmo, una tela, una serie di cromatismi, di pigmenti apponibili sulla tela, quale grandezza porre in uno sguardo verso un cielo che si apre, come nell'annuncio del Quinto, non ricordo quale sigillo del greco ripreso poi da Leda Muisel, anche Leda Muisel, come, no, testimoniano questa forza, noi ora qui siamo, abbiamo espunto altre immagini forti che avrebbero potuto, e tuttavia siamo, ma chiamiamo, evochiamo anche tutte le altre immagini che sono state allontanate, ma che qui vengono col noi però scegliersi e presentarsi anche con la nostra forza evocate, ecco questo, e questi tre video ultimo trittico che ho fatto a testimoniare, no, come, perché mi è capitato di fare delle immagini su delle pareti, così, illustrazioni in una scuola dell'infanzia, ecco allora più doloroso fare, diciamo, semplicemente una banalissima chiocciola, un mollusco terrestre, e poi sentire che quello spazio era stato preso, si era accampata con forza a un'immagine che non evocava la potenzialità di altre, quindi era come così fatta, statua di gesso, gessata, e allora poi come riprendere questo virtuale, questo dolore, per aver eliminato altro, quando ti si offre uno spazio d'edizione, di presenza, allora video diversi, tre, una trilogia, uno con la costruzione di un'icona, un'icona, lo sforzo di stare in un contemporaneo performativo, anche inglese, poetico, un'immagine, dare forza, inventare una struttura iconica, e poi dopo anche l'altro, un testo invece narrativo, poetico, con un italiano convenzionale, con un convenire ad una lingua più di tradizione, tradita, con dei paradigmi, degli artifici, retorici, tipici di una certa attorialità, e mentre l'altra anche aperta al performing act, al reading, e l'ultimo invece una riflessione sostenuta da un'immagine assolutamente slegata dalla presenza del corpo, una quasi iconoclastica riflessione, che poi questa che ora faccio nella prosecuzione, quindi le opere che non esistono come Anghiari, La battaglia, Il cavallo, La statua equestre, Al moro, queste sono le opere nome, titolo, che si portano dietro un potenziale infinito di suggestione, perché questo titolo apre a un'infinità possibile, di invenzioni, quale forza, no? Queste che sono un titolo che apre a un'infinità di immagini senza espungerne alcuna, anzi allargando a tutti gli altri, come dire, fruitori di questo titolo iconico, all'immaginazione di come sia o possa essere stata questa battaglia fatta col fuoco dipinta fuori dalle regole, dalle leggi, della frescatura, ma con qualcosa che più similmente evocasse ed evocava l'incausto morta, bruciata, ma viva di vivide e infinite possibilità offerte anche al fruttore di immaginanza. Certo, tornando invece a quelle opere che ci sono, che sono elette, è quell'elezione però più alta se testimoniano di condurre con loro, di aver trascinato dietro tutte le altre possibili frementi, come appunto certi sguardi nei Santi del Greco o nella vibrante scagliata, come dire, mobile presenza all'interno dei prigioni, questi prigioni che si sprigionano da una serie infinita di possibilità che limitano tutte le altre, ma chiaramente rammemorano la forza anche delle altre, che fanno vibrare di una vibranza assoluta, quella forma in fieri che scelta non si è però definitivamente chiusa a tutti gli altri sprigionamenti sconfinati, che quelle prigioniere figure, ma sprigionanti anche la memoria di tutte le altre che avrebbero potuto essere, e si mantengono vive in quel modus così evocante questa molteplicità di forme, sebbene il marmo poi si chiuda come materia proprio anche metaforicamente sei marmoreo, questa capacità di dare al marmo la forza di evocare tutte le forme che poteva prendere e non ha preso è la grandezza di Michelangelo, se nella Sistina si prova a far tutto, a evocare tutto, a non lasciare niente di non fatto, quello è il tentativo opposto e quella è la forza, qui è stato fatto quasi tutto, i corpi in tutte quasi le posizioni possibili, c'è un catalogo infinito di immagini, invece nel marmo quella forza del tutto se la porta dietro l'indefinitezza del movimento della scaglia che si fa apertura alla sconfinata eventualità di infiniti altri modi di fuoriuscire da quella marmoreità che meraviglia come certi sguardi verso squarci di cielo o alcuni paesaggi oppure più semplicemente dentro i monocromi che è molto più facile noi un monocromo sollevare il tema che avrebbe potuto esserci ed è in quella vacuità di colore, in quella assenza o presenza di un colore l'infinità di altre occasioni ecco, ma invece nella struttura che sembra che si porta dietro la forza, la forza della scelta anche sostenere l'evocazione di tutto ciò che è andato perso mentre quell'immagine si stava facendo e evocare questa sofferenza e anche tutto il perso, questa è la grandezza di alcuni, di alcune opere che non si trova in altre, in alcune, ecco per esempio anche i segni sbilenchi sulle tele di De Pisis, che si fanno così materiali, immateriali, faccio questo ma quanto altro avrei messo e potuto mettere sui tavolini, pesci, martin pescatori, cacciaviti, panni, ecco, ogni natura morta non è quella, ma alle vocazioni di tutte le altre che non ci sono lì e così quasi invece in maniera ossessiva a farle tutte, le tutte infinite posizioni di bottiglie e ciotolini senza trasparenze scure di polvere, di Morandi le ho fatte tutte, ognuna di quelle fatte sta insieme alle altre, come se non ci fosse altro che quei ciottolini e loro spostarsi, bottiglie una accanto all'altra, ad evocare tutte le altre posizioni e a limitare però il repertorio delle visioni possibili, no via basta, corpi basta, paesaggi via, solo questi così sui tavoli da me limitati, bottle, bottiglie, fiaschi, vaschette, ciotole, una accanto disposta in combinazioni in numeri con questi bruni, grigi e ombre, spesse materie, e questa evocare, no? La sofferenza della tela occupata, del possibile lo sconfinamento, come dire, gestito in questo modo, anche qui c'è la testimonianza di questa addolorata, no? Appassionata passione, quasi una via cuchis di cose che si fanno e evocano tutte le non fatte e tutte le si prova in quel repertorio ristretto di bottiglie a farle. Che meraviglia tutta questa, diciamo, apertura nel chiudere, nello scegliere, nell'avere qualcosa che sembra definitivo, ma che fa dietro di sé bussare il taglio di fontana, aprire, aprire, aprire all'infinità di altre immagini, una fessura, capisci, aprimi non più la superficie piatta, quadrata, ma apriti, entra, esci da questa ferita, che è la ferita della scelta che fa, che allarga, come una figura, no? E stando nello spazio, crea anche tutto lo spazio intorno, più lo spazio intorno viene evocato, come tirato fuori dal niente, da questa figura, l'ho già detto, parlando di Anassimandro e della Peyron, come esce dalla Peyron, la forma della bottiglia, del fiore, esce anche tutto ciò che quel fiore non è, e quindi occorre una, come dire, poi capacità di trasferire questa soluzione, no? Che in quella figura, su quella tela, chiude, però dovrebbe evocare tutto ciò che non ha aperto, e quindi una chiusura che evoca, per esempio, ecco, perché, perché quali autori non hanno questa andante modalità di relazione, e quindi devono anche parlare, penso al Vasari, è uno straordinario tecnico, con capacità infinite nella pittura, ma ogni sua pittura dettagliata, ogni icona che vedi è quella, è quella e basta, e non so, non c'è una vibranza che chiama a sé tutto ciò che non ha fatto, ecco, quel quadro è quel quadro fatto, non c'è un lamento per tutto ciò che non è stato espresso, ecco, e quindi sente anche lui, sente il rovello, e allora si fa narrante di altre vite, di altre occasioni, vite fatte, e le sue vite sono splendide, perché quel testo evoca suo, nella storia anche tutti coloro che lui non ha conosciuto, gli astratti pittori, pittografici su caverne, come gli artisti che ci saranno, ed ognuna di queste vite che racconta, è aperta ad altro, ecco, lui questa capacità di fare, di quel che sceglie, l'occasione di rammemorare il non scelto e di farlo fremere dentro, la trova nella biografia, nell'accumulo, nell'accatasto di vite, che anche se non le leggi è come dice il vasari, cosa dice, quanto, perché tutto ciò che non ha detto ancora si sa che è potenzialmente dicibile e da dirsi in futuro da quel vasari, ecco, lì raggiunge la grandezza della scelta che però tiene frementi tutti coloro e le cose che sulla superficie non appaiono ma ci sono, ci rumoreggiano, ci vibrano dentro e dietro, come queste figure infinite di prigioni si accavallano dentro quel marmo, come i santi, gli sguardi di El Greco, chiamano tutte le figure, i paesaggi oscuri che non sono stati chiamati, e come le vibranti pennellate falsamente a chiedere la luce di Van Gogh in realtà sono l'apertura, no, così vibrante a tutte le forme che lì non ci stanno quanti, quanti ne ha fatti poi davvero di girassoli, tanti e tutte le prove che ogni volta gli artisti, i pittori, i scultori fanno, no, e rifanno, gli abbozzi, sono questo confluire del possibile a sostenere, no, lo sforzo, per evocare anche ciò che è stato tenuto lontano ma che deve da quell'immagine anche essere fortemente ripreso in memoria, evocato anche come malinconia per ciò che avrebbe potuto essere, non è stato e sta come evocazione nostalgica di quella mancata occasione di farsi, e si fa in un'altra cosa che in quel momento ha preso il suo posto, ma la rammemora, ecco, così i fiori di pesco e forse gli iris, no, che sono quegli iris, e sicuramente le ninfee di Monet, perché ogni, ogni immagine è già tutta un'altra infinità, altra infinità di fluttuanti, fluttuanti ninfee su quella superficie acquatica, no, che vedi questa è una, ma quante altre ne evoca di riflessioni, di foglie su quel ninfario, su quello specchio d'acqua, no, vedi quante altre ninfee, quelle che sono già indefinite in quell'opera, ecco, quell'opera assolutamente, quelle opere delle ninfee, sono assolutamente ognuna evocante, essa stessa, le altre infinite, migliaia di volte viste ninfee, riflesse sull'acqua, e quale forza, e quale suggestione, e quale vibranza, sovrapposizione, di specchiamenti e riflessioni, su quell'acqua, tu vedi che forza, e piangi a vederle, perché ne vedi una, e tutte le altre, le volte, che lui si è affacciato, dal ponte cinese, sul suo stagno, ognuna di quelle immagini, lo stagno, le volte infinite, che lui si è affacciato, su quello stagno, riflessse le immagini, nell'acqua, perse le immagini, sullo stagno, affacciate le immagini acquatiche, onde dell'acqua, perse sullo stagno, evocanti le scelte non fatte, evocanti lì, tutte, quante ancora, però, presenti, seppure non fatte a vibrare, dietro, evocanti tutte le volte, sulla superficie,